La signora degli Oshkar oggi fa una cosa bellissima, cioè fa gli spaghetti nel boiler per fare il caffè cioè avete capito, una cosa bellissima, si è vestita tipo come le gocciole, deve fare la pubblicità delle gocciole ha detto, mo l'hanno chiamata perché è una tipa selvaggia la signora degli Oshkar anche se si mette sempre a puntino e allora mette questi spaghetti quadrati mattonelle di spaghetti quadrate qua dentro e in questo boiler per fare puoi mettere le bustine da tè, perché da tè, caffè, insomma così mette un po' di caffè in polvere mista al roccemarino, quello è molto buono perché fa la cosa di roccemarino un po' d'olio d'olivia e la sua amica che sta a fianco di un'altra pastassina come lei e mette che cos'è questa roba, signora che cos'è? l'aceto balsamico, qua ci vuole per riprendere un po' d'aceto, basta solo l'aceto signore perché noi ci veniamo quando vediamo queste cose, con l'aceto diciamo, ci ri... un poco su il peperoncino perché piccante, la signora piace roba piccante e poi la signora prima di mostrare le cose le schiaffeggia capito? sono le sue... ognuno c'ha le sue cose per cucinare, insomma, la signora c'ha questo tipo di... di piacevolezze, ecco, prende la macchinetta del caffè e mette l'acqua sopra, vedete com'è bella la macchinetta del caffè e gli spaghetti al caffè, metta il caffè e accende la... questa... da caffè la pazza a caffè la tazza è un attimo, vedete quella... la pazza è... questa è la tazza, proprio in... ma non questa tazza, proprio dopo va in un'altra tazza, avete capito? ogni tazza è fatta diversa, noi abbiamo la tazzina per prendere il caffè, la tazza del... della macchinetta qua è enorme e poi c'è la tazza, quella la di ceramica, quelle serve ben altre cose la va a finire le altre cose, fate... va a bollire qua dentro questa masso di formaldeide, cervella, mi sembra... cioè stanno prendendo veramente una forma bruttissima proprio da... a... a guardare, la signora aspetta e veda... bello... bello qua è venuto il pappone, finalmente il pappone al caffè con le mani mettiamo... mettiamo dentro, poi assaporiamo, la signora è bella perché lo sapete, a me piace la signora, perché mangia... mancia tu, signora mangiate, mangiate... guardate la la fame che ha la signora secondo me è aliena, signora, non è una signora, sei messi in sembianza di signora degli Oscar, ma sotto sarà quella... quando finisce di fare i video la mandano all'aria 51 per... per... per gli alieni, insomma top secret, più top che secret però, perché questo è proprio... neanche i topi se mangiano questa roba, però signora, complimenti, complimenti alle sue papille gustative ma cos'hanno le papille gustative, signora? Ma cosa si prende per mangiare quei? io questo vorrei... quali sono gli antidepressivi che si prende dopo aver mangiato questa roba? perché questa è una roba da depres... cioè, questo deve andare proprio giù il morale questo... ma pure i molari, se cade... tutto cade, signora, ciao!